Ma la spedizione su ebay conviene metterla gratuita oppure no? Ciao sono Daniele per gli amici subri e oggi voglio risolvere questo dilemma prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video a tema di vendite, acquisto e risparmio che escono tutti i giorni sul canale un venditore su ebay potendo impostare il prezzo della spedizione ogni volta si fa questa domanda lo so anche voi ma la spedizione gratuita la metto oppure non la metto converrà mettere l'oggetto più caro e la spedizione gratuita oppure converrà mettere un prezzo più economico ma con una spedizione che il cliente pagherà al momento dell'acquisto diciamo che una risposta che vada bene per tutti in qualsiasi circostanza non esiste altrimenti sarebbe troppo semplice infatti in questo video voglio analizzare tutte le circostanze possibili ed immaginabili ovviamente cercando di dare una risposta per la vostra esigenza specifica prima di iniziare con il video però voglio ringraziare lo sponsor che ha permesso tutto questo ovvero me spesso mi chiedete come poter affrontare al meglio i business di cui parlo nei miei contenuti bene da oggi potrete fare tutto ciò grazie a una consulenza personalizzata direttamente con Subri potrete fare tutto tranquillamente dal mio sito web nella sezione sentiamoci nella quale potrete prenotare una consulenza personalizzata ad una determinata data e ora a vostro piacimento ma concludiamo adesso con lo sponsor grazie Subri e proseguiamo con il video partiamo dai pro di una spedizione gratuita e a tutti viene in mente un'unica cosa ovvero il cliente è attratto dalla parola gratis quando vede 0 euro per la spedizione si fionda sull'annuncio e lo compra all'istante questo è parzialmente vero anche perché la piattaforma avvisa soprattutto quando c'è una spedizione rapida di mezzo poiché ci sarà la scritta rapido e gratuito tutto ciò indubbiamente potrebbe far vendere di più soprattutto perché attrae tutti quei clienti che in genere acquistano d'impulso il secondo fattore da non tralasciare assolutamente è che quando una spedizione è gratuita c'è un minor abbandono del carrello poiché tanti soprattutto da app quando fanno l'ordine non si accorgono che c'è un costo di spedizione quindi arrivano a pagamento dell'oggetto e si accorgono che devono pagare un tot di spedizione in più quindi lasciano perdere cercano un altro oggetto questo secondo me accade perché ebay mette tanto in grosso il costo dell'oggetto e molto in piccolo il costo della spedizione quindi tanti non si accorgono che c'è un costo di spedizione ed infatti secondo i dati di ebay quando c'è un costo di spedizione in mezzo tanti più clienti abbandonano il carrello perché non si accorgono che c'è questa spedizione da pagare e quindi prima del pagamento dicono c'è qualcosa che non va prima costava un tot adesso ah ecco perché c'è un costo di spedizione quindi lascio perdere il terzo fattore che può sembrare una cosa da poco ma non lo è si chiama ebay extra per chi non lo sapesse questa è proprio un'iniziativa messa in campo dalla piattaforma che permette di accumulare dei punti da spendere poi successivamente negli acquisti sempre su ebay in poche parole ogni 100 punti danno un euro a tanti conviene prendere oggetti con la spedizione gratuita ovviamente perché il costo viene calcolato solo sul valore dell'oggetto non sulla spedizione quindi se c'è l'oggetto a 5 la spedizione a 5 la piattaforma da 5 punti se c'è l'oggetto a 10 con la spedizione gratuita la piattaforma da 10 punti non so se avete capito il gioco quindi in automatico chi partecipa ad ebay extra è molto più propenso ad acquistare quelli con la spedizione gratis per accumulare più punti banalmente una volta visti i lati positivi di mettere la spedizione gratuita passiamo ai lati positivi di mettere una spedizione a pagamento e potrà sembrarvi assurdo ma il primo vantaggio banalmente è guadagnare di più senza esagerare troppo con il prezzo proposto sulla piattaforma al momento della scelta della spedizione ma è indubbiamente vero che ad alcuni venditori una determinata spedizione costa meno e quindi possono proporla a un prezzo maggiore su ebay guadagnandoci anche proprio sulla spedizione in sé ad esempio nella vendita di un videogioco messa la spedizione a 7 euro ma il venditore in realtà la paga a 5 per il cliente finale 7 euro non è un'esagerazione ma in questo caso il venditore avrà un ricarico anche sulla spedizione di 2 euro che è poco ma ci sarà comunque un ricarico anche lì attenzione però a non esagerare non ve lo dovrei neanche dire ma è inutile mettere l'oggetto ad un euro con 20 euro di spese di spedizione perché quello vuol dire prendere in giro il cliente questo che vi ho appena detto può essere unito anche al secondo vantaggio che ha una spedizione a pagamento ovvero far acquistare al cliente più oggetti quindi guadagnare di più proprio grazie alla spedizione multipla quando verrà inserito un oggetto su ebay con quantità maggiore di 1 ci sarà la possibilità di inserire il costo per gli oggetti aggiuntivi e questo potrebbe fare invogliare proprio il cliente ad acquistare più oggetti seguite il mio ragionamento se nel vostro store avete una t-shirt a 10 euro con spedizione gratuita e altre 20 magliette sempre con la spedizione gratis un acquirente sarà portato ovviamente a pensare ok c'è la spedizione gratis acquisto d'impulso e compro velocemente senza neanche pensarci quindi la prendo ma chi volesse più t-shirt a questo punto direbbe ok io ho qua la t-shirt con la spedizione gratis da quest'altro store invece la stessa maglietta costa 5 euro più 5 di spedizione ma io ne voglio altre 6 o 7 di magliette quindi che cosa faccio guardo da quello che ha 5 di t-shirt con 5 di spedizione quanto costa aggiungere tutte le magliette al carrello e in automatico gli compro tutte quelle magliette cosa che da quello con la spedizione gratuita non avrei fatto questo ovviamente per il venditore si tramuta in una vendita multipla assicurata proprio perché il carrello finale è logico che verrà meno quello da 5 euro più 5 di spedizione rispetto ai 10 euro con spedizione gratuita perché ogni oggetto aggiuntivo la spedizione sarà sempre gratis ma tutti gli oggetti costeranno di più secondo i dati di bay e non me li sto inventando io di sana pianta infatti un cliente prediligerebbe di più fare un acquisto multiplo anche se c'è un piccolo costo di spedizione ogni oggetto aggiuntivo rispetto a fare acquisti multipli dove c'è la spedizione gratuita logicamente il venditore che avrà messo la spedizione gratuita su ogni oggetto quindi ricaricando effettivamente il costo di spedizione sul singolo oggetto ci guadagnerà di più nel momento in cui un acquirente farà un acquisto multiplo ma siamo sicuri che venderà di più rispetto a quel venditore che ha messo oggetto più spedizione separato secondo i dati di bay no avrete quindi sicuramente inteso che dipende moltissimo dalla merce messa in vendita sulla piattaforma di bay perché per una console da gioco se c'è la spedizione gratuita ovviamente non è un male perché non andrà a incidere così tanto come per altre categorie di oggetti ad esempio potrebbe essere molto utile per far aggiungere alla console da gioco alcuni giochi che il negoziante ha sempre nello store per chi invece vende oggettistica piccola come le monete ma potrebbero essere anche i francobolli oppure non so dei dadi dei bulloni comunque avete capito il genere che intendo sarà molto più utile avere oggetto e costo di spedizione separato perché un cliente che guarderà oggetto con spedizione inclusa l'oggetto singolo risulterà troppo caro rispetto alla media e soprattutto potrebbe esserci anche la seria possibilità che quello stesso acquirente ordini più cose insieme proprio perché comunque pagherà un'unica spedizione ad un prezzo decisamente più ridotto c'è secondo me però un trucco da adottare per attirare comunque più clienti nonostante la spedizione a pagamento purtroppo su ebay non c'è ancora ma magari in futuro la implementeranno la possibilità di inserire la spedizione gratuita se l'acquirente raggiunge una determinata cifra presso uno store però questa procedura potrebbe essere fatta forzatamente dal venditore in descrizione durante la creazione dell'inserzione infatti potrete far presente che una volta raggiunti ad esempio i 50 euro di spesa l'acquirente potrà richiedere il totale del pagamento e voi manualmente metterete la spedizione gratis così facendo nonostante abbiate la spedizione a pagamento un acquirente che normalmente su ebay lo fa ovvero leggere la descrizione si accorgerà che c'è la possibilità di avere la spedizione gratuita ad esempio sopra i 50 euro e quindi sarà invogliato a raggiungere i 50 euro d'acquisto per poi inviare una richiesta per avere la spedizione gratis se arrivati a questo punto del video comunque non avete idea se mettere la spedizione gratis oppure a pagamento premetto che c'è la possibilità di fare dei test io personalmente lo vedo fare spesso da alcuni venditori quando devo fare un acquisto su ebay quando inserirete un oggetto sulla piattaforma ad esempio con la spedizione gratuita provate a inserire il medesimo oggetto con la spedizione a pagamento di modo tale che vi renderete conto quale dei due annunci riceverà più visite più click più contatti o più proposte d'acquisto ad esempio attenzione però l'annuncio dovrà essere identico quindi stessa foto stesso titolo e stessa descrizione oppure una leggera variazione sulla descrizione ma il resto deve essere identico altrimenti non avrete un test univoco perché se il titolo differisce la piattaforma potrebbe prediligere un titolo rispetto all'altro senza contare il parametro della spedizione spero di avervi riassunto al meglio come poter gestire la spedizione se gratuita o a pagamento ma lo sapete già che per qualsiasi altro dubbio domanda sezione commenti sempre aperta